Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale anche oggi la dedichiamo alla vicenda Gela Calcio, le frizioni tra Comune e Dirigenza Biancazzurra purtroppo hanno indotto i vertici societari del club a prendere una drastica decisione. La squadra non partirà per la trasferta prevista per domenica a Palmi. Lo aveva minacciato l'uno di scorso il presidente Angelo Mendola, il Gela non si presenterà domenica prossima in campo con la Palmese fino a quando dall'amministrazione comunale non arriveranno notizie confortanti e definitive sulla gestione dello stadio Vincenzo Presti. Oggi purtroppo è arrivata l'ufficialità, i biancazzurri del tecnico Pippo Romano non partiranno alla volta della Calabria. Qualora non si risolvano i problemi che hanno posto in essere i presidenti riguardante la gestione del campo, la squadra non partirà, non partirà per Palmi. Allo stesso modo però io ho l'obbligo di dire che noi rappresentiamo una città importante, un club storico, una tifoseria appassionatissima. Noi per quanto ci riguarda, staff tecnico e calciatori faremo fino in fondo il nostro dovere, faremo al campo, prepareremo la partita di Palmi per come si deve. Cercando sicuramente, augurandoci che le problematiche societarie si risolvano. Il mio personalissimo pensiero è che una città importante come Gela debba balzare agli onori della cronaca per aspetti positivi piuttosto che negativi. Gela è una città grande con una storia importante e credo dalle potenzialità importanti. E quindi credo che in questo preciso momento i falchi debbano assolutamente riposare e volare alte le colombe. Quindi il mio auspicio, il pensiero di tutti noi è che chi di competenza si faccia da tramite affinché si possa ricomporre questa diatriba, perché Gela non merita assolutamente un triste epilogo anche nel calcio in questa maniera. Le chiedo, ma la squadra è stata visata della decisione assunta dalla dirigenza? Noi cercheremo con tutte le nostre forze di esularci, di non dare peso a questa problematica. Ho la fortuna di avere un gruppo fantastico, dei professionisti esemplari. Noi faremo, lo ribadisco, il nostro dovere fino in fondo, cercando di non parlare assolutamente di problematiche societarie, ma di concentrarci esclusivamente sulla partita di palma. Dunque non c'è al momento attuale alcun elemento che possa ricucire lo strappo tra dirigenza e comune? La comunicazione della società ad oggi è questa. La squadra, se non si risolvono le problematiche che hanno sollevato, la squadra per palmi non partirà. E non si è fatta attendere la risposta della dirigenza del Gela alla nota inviata dalla vecchia dirigenza della società calcistica presieduta da Angelo Tuccio. Potremmo semplicemente dire, si legge in una nota, che se ne sono lavati tutti le mani, come Ponzio o Pilato, tecnicamente quanto da loro dichiarato potrebbe essere corretto e veritiero. Se a Monte ci fosse stato un impegno scritto dal fantomatico sponsor che oramai tutti conosciamo. Quanto dichiarato da vecchi soci, però sinceramente stona con la professionalità e la serietà dimostrata dopo anni di gestione di una società sportiva. Detto questo, leggiamo ancora, visto e considerato che la vecchia dirigenza esprime solo parole di apprezzamento e gentili nei confronti del fantomatico sponsor, possiamo invitare la vecchia dirigenza ad intercedere affinché quell'impegno assunto a suo tempo con loro possa essere onorato e portato a compimento, visto e considerato che a noi non viene data nessuna certezza. Chiediamo pertanto sempre alla vecchia dirigenza di farci avere copia in originale del contratto di sponsorizzazione 2016-2017, regolarmente firmato per accettazione, in modo tale da poter procedere secondo le normali vie previste dalla legge al recupero del credito nei nostri confronti. Anche noi, leggiamo ancora nella nota, abbiamo ben chiari quali siano i costi di gestione di una società sportiva comprensivi delle forniture di integratori e bevande. Ed è proprio attraverso tale consapevolezza che ci meraviglia il modo ironico e frettoloso con cui sempre la vecchia dirigenza abbia rigirato la frittata, facendoci passare per sprovveduti quando tutti sanno che quel credito nei nostri confronti andrebbe a coprire il pagamento di parte dei stipendi di padre, di famiglia e non semplici calciatori lasciati a bocca asciutta dalla vecchia dirigenza e di certo non dall'attuale. Questa dirigenza, lo ricordiamo, sino adesso ha ottemperato a tutti gli impegni, compresi quello di me permettere alla squadra di iscriversi al campionato di Sreddi nella stagione in corso. Questo impegno, allora onorato, con l'immediato versamento delle nostre quote del 40%, ma anche con l'invito rivolto alle nostre aziende di riferimento che si trovano in Piemonte, Liguria, Lombardia, a sottoscrivere contratti di sponsorizzazione e a versare le somme corrispondenti nelle casse della società sportiva. I contratti furono tutti firmati e timbrati per accettazione e le somme tutte incassate dalla vecchia dirigenza. Detto questo, infine, leggiamo ancora nella nota, noi non vogliamo alimentare nessuna polemica e sappiamo bene quali e quanti sacrifici sono stati fatti da chi ci ha preceduto. Quegli stessi sforzi che adesso noi vogliamo intraprendere affinché il nome del gioco a calcio vada sempre più in alto ed in palcoscenici sempre più importanti. Quindi permetteteci, chiude la nota, però di sfogare la nostra rabbia per un atteggiamento poco chiaro che non onora il glorioso vessillo bianco-azzurro. E intanto sulla vicenda oggi interviene Lucio Greco di un'altra Gela. E' una brutta storia quella che sta venendo fuori dopo la lite tra l'impeditore Emanuele Mendola e il vice sindaco Simone Siciliano. I legami poco chiari tra calcio, politica e spazzatura stanno emergendo nella loro gravità. Lo dice in una nota Lucio Greco di un'altra Gela. Se le accuse mosse giorni addietro dal consigliere comunale indipendente Antonio Torrenti, che ha accusato Siciliano di essere stato l'intermediario tra la tecra e la dirigenza del Gela Calcio, dovessero risultare fondate, ci troveremmo di fronte ad una vicenda grave ed inquietante dai contorni politici opachi e preoccupanti. Non comprendiamo infatti le ragioni per cui una società privata che si occupa di raccolta di rifiuti decida di sponsorizzare con somme consistenti una squadra di calcio ed altre attività significative. A che scopo? Quali vantaggi ne trai? Chiede Greco. Non vorremmo che la tecra venga usata come una sorta di cavallo di troia per far passare sotto banco iniziative quanto meno discutibili a favore della Giunta. Constatare che una società per giunta campana, invece di sforzarsi ad offrire un servizio più efficiente per rendere più pulita la nostra città, sia al centro del dibattito politico, amareggia e indigna i cittadini. La città pretende chiarezza alla riguardo senza sconti per nessuno. Non vorremmo, aggiunge Greco, che la Giunta avesse già trovato o intenda trovare per il futuro il modo di ringraziare la tecra per questi servizi resi. Chi rappresenta e amministra la città non può essere accusato di fare da intermediario tra due società private, ancora peggio se poi rinnega quanto vattuito, compromettendo di conseguenza il futuro calcistico della città. Un sindaco degno di questo nome dovrebbe prendere atto di quanto accaduto ed intervenire senza tentennamenti. D'altronde, il Consiglio Comunale Torrenti è stato chiaro ed esplicito e non ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. D'altronde, continuo Greco, la fattura di 140.000 euro è stata esibita. Di fronte a questi gravi indizi non si può far finta di niente. Se la politica lascia passare sotto silenzio anche questi fatti, non ci dobbiamo poi meravigliare che la gente non crede più a niente. Greco si sente mortificato in merito al fatto che a tenere banco nella nostra città siano argomenti legati al mondo della spazzatura, quando invece dovremo parlare di sviluppo, lavoro e occupazione. La città, chiude Greco, merita rispetto. Cambiamo argomento. È prevista per venerdì 20 ottobre, alle 20, nella chiesa Sant'Agostino di Gela, la presentazione multimediale della pubblicazione Cinque chiese in una piazza di Don Marino di Dio e Nuccio Mulè. Interverranno Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Almerina e del sindaco di Gela, Domenico Messinese. Al termine si terrà una passeggiata guidata tra le vie e i vicoli del Centro Storico Murato. Sabato 21 ottobre, invece, alle 20, sempre nella chiesa Sant'Agostino, è prevista la veglia di preghiera e traslazione delle reliquie nella chiesa di San Francesco di Paola. Domenica 22 alle 19, nella chiesa San Francesco di Paola, celebrazione eucaristica con rito della dedicazione dell'altare presieduta dal vescovo della diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisara. E adesso parliamo di politica e ci occupiamo delle prossime elezioni regionali. Oggi vi presentiamo il candidato gelese all'Assemblea regionale siciliana, Anna Comandatore di Diventerà Bellissima. Anna Comandatore, la sua scelta di scendere in campo per le prossime regionali è dovuta e dettata da cosa? La mia candidatura è sicuramente frutto di un percorso politico che è nato già un paio di anni fa. quando ho deciso di sposare il movimento di Diventerà Bellissima è il progetto di Nello Musumeci. Oggi in seno al Consiglio Comunale siamo una bella realtà, la realtà più folta del centro-destra, che conta di tre consiglieri comunali che hanno fortemente voluto la mia candidatura unitamente al Presidente. La mia sicuramente è una candidatura che porterà un collante tra il territorio e la Regione e è volta soprattutto a portare avanti determinate problematiche che affliggono il nostro territorio e che sono state dimenticate dall'epoca ormai passata del crocettismo. Qual è il suo programma? Il mio programma sicuramente non si può discostare da quello regionale che è stato appena pubblicato da Nello Musumeci unitamente agli suoi alleati e che riguardano la risoluzione di alcune problematiche che ad oggi sono rimaste assolutamente risolte. Certo il nostro territorio oggi paga un prezzo altissimo per l'abbandono voluto dal Presidente uscente e se mi consentite anche dalla mancata partecipazione delle deputazioni che si sono succedute in questo territorio che non hanno sicuramente portato le giuste istanze alla Regione. Oggi Gela deve essere aiutata a risolvere i problemi atavici che l'affliggono ma soprattutto andando avanti per emergenze. Oggi sicuramente l'emergenza maggiore riguarda la sanità riguarda la carenza di infrastrutture riguarda la scarsa valorizzazione delle opere che abbiamo e mi riferisco appunto alle opere ai beni archeologici e insomma Gela è tutta da scrivere. L'importante è che il collante tra questo territorio e la Regione sia concreto ed efficace. Capiamo che voi punterete anche sul turismo. Sì, il turismo è una di quelle puntate importanti che verranno sicuramente realizzate ma abbiamo il discorso sanitario, il discorso infrastrutturale senza porto non possiamo parlare di turismo senza valorizzazione dei beni archeologici non possiamo parlare di turismo senza la veicolazione di quello che questo territorio è capace di dare non si può parlare di turismo. L'Istituto Scolastico Majorana di Gela in rete con altre scuole del territorio tiene da oggi a venerdì 20 ottobre un corso di formazione per docenti il tema legislazione di impresa e apprendistato sarà trattato dall'avvocato Graziana Cannadoro docente di diritto del Majorana destinatari del corso sono alcuni docenti dei diversi istituti che poi saranno disseminatori dei principi che regolano gli istituti giuridici dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato nelle altre realtà scolastiche della regione venerdì 20 alle 9.30 saranno presenti Rosario Amaru, vicepresidente nazionale della piccola industria ed Emanuele Gallo, segretario generale della Cisla di Agrigento, Enna e Caltanissetta che tratteranno sugli effetti dell'applicazione del contratto di apprendistato assieme alla docente Cannadoro la sede del corso è l'auditorium di Piano Notaro Raffronti con le ortofoto del 2013 sorvolo drone e algoritmi dati incrociati sono solo alcune delle metodologie adottate nell'ambito della mappatura del territorio di Gela per censire le coperture in amianto le società ARES, GEA e VERAM hanno completato il lavoro commissionato dal Comune che così si dota tra i primi enti locali in Sicilia di un dettagliato piano comunale dell'amianto in linea con le prescrizioni legislative regionali e nazionali i risultati del monitoraggio sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Comune alla presenza del Sindaco Domenico Messinese e del Vice Sindaco con Delega l'Ambiente Simone Siciliano il piano comunale dell'amianto permetterà di accedere ai finanziamenti per lo smaltimento e la bonifica dell'amianto il censimento si è concentrato anche sui cosiddetti punti sensibili luoghi in cui si riscontra una siccia presenza di persone tra essi edifici comunali e plessi scolastici sono risultati privi del materiale altamente tossico lo stesso però non si può affermare per gli immobili privati nelle adiacenze un punto che obbedisce alla volontà di mettere la salute del cittadino al primo posto lo avevamo annunciato è stato fatto da qui ora inizia il cammino per facilitare la cittadinanza alla rimozione e alla bonifica dell'amianto lo faremo aprendo uno sportello amianto in cui il cittadino verrà informato e avrà modo di ingrociare i dati diciamo delle autonotifiche con quello che è la mappatura e da qui poi verrà avviato il percorso per il ricepimento dei fondi pubblici dei fondi regionali soprattutto per Gela che è un'area di crisi sanitaria che consentiranno appunto quel meccanismo di incentivazione per la bonifica di questi manufatti in amianto abbiamo fatto un indice di degrado che è un sistema di calcolo sostanzialmente oggettivo su quella che è la situazione della consistenza del materiale individuato e ci ha permesso di mappare in quel territorio il rischio associato alla situazione abbiamo individuato una situazione diciamo sicuramente di attenzione ma non di allarme e quindi le attività dovrebbero essere portate avanti e approfondite ulteriormente però questo ci permette di dire che la situazione dell'amianto è sostanzialmente diffusa sull'abitato del comune di Gela ha una situazione che deve essere monitorata perché le coperture ci sono e vanno continuamente controllate per mantenere alto l'attenzione sulla salute dei cittadini i proprietari devono fare sostanzialmente la denuncia che è quella che prevede la legge regionale del 2014 e una volta che l'amianto è stata individuata dovrebbero seguire quelle che sono le linee indicate dalla legge 6994 la legge nazionale 6994 indicando un piano di controllo e manutenzione sul materiale nominando una persona che è responsabile del piano di conservazione e fare le opportune segnalazioni agli enti preposti Nome? Sì, nome Sono Paolo Perfetti direttore di produzione della Società Vera ma che ha collaborato con il comune di Gela per portare avanti il piano comune all'amianto Ok La comunità parocchiale Sant'Antonio di Padova di Gela con il suo gruppo missionario come ogni anno ad ottobre promuove la giornata missionaria mondiale giunta alla 91esima edizione appuntamento propizio per richiamare tutti i fedeli all'assenso di responsabilità che ogni cristiano deve avere verso i fratelli più deboli e bisognosi non solo di sostentamento economico ma anche spirituale Fino a domenica 29 ottobre nei locali della Chiesa sono previsti numerosi momenti di riflessione Domenica 20 ottobre alle 19 la messa sarà celebrata dal missionario padre Walter Corsini sarà l'occasione per un aggiornamento sui progressi realizzati nei vari paesi in cui i missionari sono impegnati chi vuole ricevere maggiori informazioni sul movimento Servi dei Poveri del Terzo Mondo fondato da padre Giovanni Salerno sulle opere che hanno realizzato sul modo di poterlo sostenere e sulle adozioni a distanza deve rivolgersi ai componenti del gruppo missionario della parrocchia Sant'Antonio di Gela sempre presenti con un banco fuori dalla Chiesa tutte le prime domeniche di ogni mese o telefonando 10 passi per rendere la tua visione un sicuro successo è il titolo di un incontro organizzato dalla Chiesa sulla Roccia curata dal pastore Nunzio Iozza il seminario ha l'obiettivo di offrire ai partecipanti degli spunti di riflessione per mettere a fuoco il proprio potenziale e trasformare i propri progetti in realtà a relazionare sul tema Getano Sottile membro del team di John Maxwell pastore americano conosciuto per i suoi insegnamenti sulla leadership al termine dell'incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione l'appuntamento è per sabato 21 ottobre in via Rimini 50 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0933 92 1561 e 393 4364 197 l'ingresso è gratuito ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi di cronaca giudiziaria donata calabrese pensavano di pagare il loro debito con la giustizia con pene piuttosto lievi e invece per 13 dei 20 indagati nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Scuola Mobile di Ragusa e coordinata dalla Procura di Settore Antimafia di Catania è arrivata una vera e propria mazzata in venti erano già finiti nei guai nell'aprile 2014 in un'operazione che permise di sgominare un presunto traffico di sostanze superfacenti in primo grado l'indagine si era conclusa con la condanna per traffico di sostanze superfacenti in concorso escludendo però il reato associativo da qui la decisione della Procura di Catania di ricorrere in appenno sentenza che in secondo grado è stata riformata che adesso ha visto gli indagati condannati anche per il reato associativo la corte d'appenno inoltre ritenendo attuale la pericolosità sociale dei 13 imputati e il rischio di reiterazione del reato ha emesso nei loro confronti una nuova misura di custodia cautelare la condanna più pesante è stata inflitta da Emanuele Firrisi 70 anni di comiso che dovrà scontare 22 anni e 6 mesi di reclusione continua all'ospedale Vittorio Emanuele di Gera la rassegna musica in corsia sull'iniziativa del presidente e direttore artistico dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra Crocivisso Ragona in collaborazione con il direttore generale dell'Asp2 Carmelo Iacono sabato 21 ottobre alle 18.45 resita la musicale nella reparto di medicina è partita oggi a Gera la tre giorni promossa dall'ordine regionale dei geologi con il patrocinio del comune nell'ambito della quinta edizione della settimana del pianeta Terra nell'ex chiesa San Giovanni Battista le giornate di studio si occuperanno dei percorsi di valorizzazione dei siti di interesse del territorio oggi si è parlato del lago Biviere di Gela della Sugheretta di Niscemi di Torre Salsa a Siculiana e del lago Preola e Gorghi Tonti a Mazzara del Vallo il presidente regionale dell'ordine dei geologi di Sicilia il gelese Giuseppe Collura abbiamo organizzato una serie di eventi in tutta la Sicilia uno di questi eventi si svolgerà qui a Gela in particolare insomma sono tre giorni di convegno su vari temi collegati tra di loro che hanno come obiettivo quella diciamo della conoscenza del territorio da un punto di vista diciamo dei beni geologici quindi passeremo il rassegno ai geosidi del territorio cioè quei posti di particolare interesse geologico ma anche ambientale mettendoli assieme ad un ragionamento che è quello della messa in sicurezza da un punto di vista chiaramente geologico e la necessità invece di valorizzazione e fruizione degli stessi beni speriamo diciamo di riuscire attraverso questo percorso di conoscenza a fare in modo che il territorio insomma prenda conoscenza dei propri beni e quindi delle proprie potenzialità e nello stesso tempo insomma si avvinano tutte quelle azioni di carattere diciamo amministrativo politico che possono portare alla tutela ma alla valorizzazione anche in termini di sviluppo economico del territorio stesso domani l'attenzione si sposterà sul mare e le risorse geoarcheologiche mentre venerdì 20 ottobre si parlerà della pietra calendario di Cozzolivo e degli altri megaliti forati dalla Sicilia molte volte noi passiamo non ci rendiamo conto di tutto quello che c'è attorno quindi queste tre giorni servono proprio per focalizzare meglio quello che ci circonda e vedere le grandi bellezze che il nostro territorio ha questo è quello che voglio portare in queste tre giorni i geologi che ringrazio che hanno scelto proprio Gela come territorio ad esempio per poter consentire in una manifestazione a livello nazionale di portare avanti quelle peculiarità del territorio sia per quanto riguarda le ricchezze che abbiamo sulla terraferma in mare ma anche per far vedere il nostro territorio in modo diverso per poterlo leggere e per poter apprezzare le differenze che ci sono La Gela che fu si tratta della mostra fotografica organizzata da Franco Pardo e da Franco Cerniglia appuntamento fino al 30 ottobre prossimo nei locali della sala congressi di Machitella alcune foto sono esposte anche in alcuni locali che si trovano in zona si darà il prossimo 21 ottobre sabato a Gela la non edizione di Corriamo nel parco di Montelungo l'iniziativa è della associazione Green Sport promotion preseduta da Giuseppe Vialetti l'inizio delle gare è fissato per le 10 testimonial della manifestazione patrocinata dall'assessorato allo sport sono il corpo forestale di Caltanissetta la Croce Rossa e l'Unicef abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci eseguito appuntamento rimandato alle prossime edizioni grazie a tutti